determina quale gas avrà massa maggiore a parità di volume, pressione e temperatura. Queste sono le condizioni di validità del principio di Avogadro, per cui i volumi uguali, come in questo caso, di gas differenti hanno lo stesso identico numero di particelle, quindi il confronto può essere fatto direttamente con le masse molecolari. Dovremo determinare quindi quale di questi ha la massa molecolare maggiore e quello sarà il gas che ha massa maggiore a parità di volume. Si tratterà quindi, questo è il testo che rappresenta quello che ho appena detto, quindi massa molecolare di CO2 è uguale a massa atomica di carbonio più due volte la massa atomica dell'ossigeno, 12,01 più 2 per 16, 44,01 grammi mole che è la massa molare. Massa molare di CH4 è uguale a massa atomica di carbonio più 4 volte la massa atomica dell'idrogeno, eccola qui, 16,04 è una massa molare. La massa molare di CO2 invece è massa atomica dello zolfo più due volte la massa atomica dell'ossigeno, 32,06 più 2 per 16 uguale a 64,06. Ecco che la massa molare è maggiore quella dell'SO2 di ossido di zolfo e quindi la risposta natale a segnalare è la risposta C.